Ora finalmente non ricordo più nulla, non ricordo più nessuno, solo una spiaggia e una ragazza. In New York è un'altra cosa, c'è il mare anche lì no? Però quasi non si vede. Ti ho visto sempre solo e ho pensato che magari ti faceva piacere conoscere qualcuno. Posso rivederti? Perché te resti? So, if so exists, I don't feel I've got one. I don't want it. L'altra sera non so com'è, però ti ho riconosciuto subito, anche se tu sei molto diverso. Sono soltanto un po' più grande. No, non è questo, hai proprio gli occhi diversi. Perché che dice la mia faccia? Non sa cosa vuol dire soffrire, non riuscire a dormire. Facile giudicare quando non si sa un cazzo. Ma si può sapere che problemi hai? Diciamo che ho qualche problema con le dipendenze. Di che tipo? Il problema è che non riesco a dipenderne mai abbastanza per riuscire a distruggermi del tutto. Tu ti sei costruito un bel muro intorno. Ma come mai? Cos'è successo? Che senso ha uscire dall'inferno se poi ci si ritorna? Io credo che il suo signore ha ammesso che esista. Sia cattivo. Io ho necessità che lei mi spieghi che cosa significa soffrire. Che motivo ha di esistere la sofferenza. Lo sa qual è il mio problema? Che ho paura di fare ancora del male a qualcuno? Matteo, tu hai fatto del male a qualcuno? Matteo, tu hai fatto della visione di tre coppola? D'una, non è normale, non è normale. Che c'è un motivo, perché non è ognuno di un'altra cosa, perché non è l'automobile? D'una, non è una cazzo. Grazie a tutti